Il risultato, come sembra delinearsi, indubbiamente conferma quella che era la nostra sensazione, la nostra percezione della città. C'era un disagio rispetto a questo governo della Giunta Belcecchi che ha trovato conferma nel risultato, almeno dai prime indicazioni. Credo che questo debba a tutti far riflettere perché la lontananza rispetto al 64% di partenza dimostra che in questi ultimi anni la maggioranza di centro-sinistra agli essi si è scretolata. Noi ci proponiamo come alternativa, sempre nell'ambito del centro-sinistra, convinti di raccogliere le esigenze della città rispetto a problematiche quali la sicurezza, la partecipazione e la qualità della vita nella nostra città.